Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale se siete delle nuove iscritte oggi, come avete potuto sicuramente leggere dal titolo, vi andrò a mostrare quelli che sono i miei top 10 rossetti e rossetti liquidi in questa classifica vedete dei prodotti che mi piacciono tantissimo, sia come durata che come colorazione e anche prodotti che magari come durata mi piacciono un po' meno, ma che come colorazione li trovo molto particolari e continuano ad usarli nonostante comunque non hanno una performance molto alta rispetto a altre colorazioni che vedrete all'interno di questa classifica ci sono anche prodotti un po' più recenti che non ho avuto modo di testare per tanto tempo uno non l'ho ancora testato ma ho visto la colorazione e mi piace tantissimo e anche dalle recensioni che ci sono online comunque sono abbastanza positivi per cui mi sono sentita di inserire all'interno della classifica vedete questa classifica in ordine anche di gradimento, nel senso dal prodotto che mi piace di più fino al prodotto no che non mi piace perché comunque altrimenti non l'avrei inserito in questa classifica ma che comunque mi piace meno rispetto a quelli menzionati precedentemente il prodotto che mi piace di più di tutti è il Liquid Love nella colorazione Nude Sunday della linea di Clio sicuramente lo conoscerete in tante, se non avete ancora visto il video dedicato a questo prodotto ve lo lascio in alto nelle schede lì vi descrivo praticamente vita, morte e miracoli di quello che penso di questo prodotto per cui non mi dilungherò più di tanto qui in questo video texture fantastica, durata immensa, colore è quello che indosso bellissimo se volete vedere l'applicazione andate lì nel video davvero è l'unico rossetto liquido che mi dura di più di tutti quelli che possiedo come secondo prodotto abbiamo una Velvet Ink di Limula che in particolare è il My Body Suit che è questo che mi vedete indossare e una colorazione bellissima penso uno dei nude più belli come colorazione che possiedo mi piace tantissimo, su di me vira molto al rosato quindi non è marroncino però ho visto che su alcune ragazze magari tende a far uscire un po' di più il pigmento marroncino ma poi dipende dal vostro colore di labbra e anche dalla vostra carnagione si va, non so, a fondere bene con le mie labbra e anche con il mio incarnato trovo che lo valorizzi e mi piace tantissimo che sia la texture che il colore è proprio questo effetto, dà questo effetto rimpolpante che fa sembrare le labbra molto belle, carnose e piene la texture è molto leggera, l'applicazione è abbastanza semplice però essendo una texture un po' più liquida dovete stare leggermente più attente nel realizzare i contorni è molto leggero sulle labbra e anche questo ha un'ottima durata una cosa che ci tenevo a dire in merito alla Velvet Ink di Mulac che è anche resistente all'acqua infatti se voi provate a struccarlo con l'acqua micellare vi faccio vedere guardate viene via veramente poco prodotto però è quasi perfetto sulle labbra però abbiamo utilizzato un'acqua micellare con l'acqua il vostro prodotto rimane perfetto intatto infatti mi ricordo una ragazza alla quale mando un grosso bacio che mi aveva appunto detto che utilizzava le Velvet Ink di Mulac quando andava a fare nuoto perché appunto non andavano via quindi come secondo posto la Velvet Ink di Mulac come terzo prodotto abbiamo l'Extreme Matte di Mesauda nella colorazione Waffle anche di questa linea di rossetti liquidi vi ho fatto un video dedicato che vi lascio sempre qui in alto nelle schede in cui vi mostro tutte le colorazioni sbocciate sulle labbra quindi se siete curiose di andare a vedere anche altre colorazioni di questa linea le trovate in quel video in quel video appunto vi avevo fatto vedere anche un test di questo prodotto dopo un pranzo quindi come vedrete dalle foto presenti all'interno di quel video il rossetto era quasi perfetto per cui mi sento molto di consigliarvi anche questo prodotto soprattutto anche per la colorazione che è molto molto bella differente da quelle che abbiamo visto precedentemente perché è un tono un po' più marroncino, un po' più spento che sta da dio secondo me anche per chi ha gli occhi chiari come potete vedere lega benissimo anche con un make up dai toni caldi mi piace tantissimo anche questo fa un bel effetto rimpolpante sulle labbra e anche dà la sensazione di denti leggermente più bianchi quindi mi sento assolutamente di cuore di consigliarvi anche questa colorazione al quarto posto abbiamo il rossetto liquido di Smashbox nella colorazione Stepping Out rispetto a quello precedentemente applicato è una colorazione un po' più aranciata un po' più calda e anche questo mi piace tantissimo ora iniziamo con i prodotti che hanno una durata leggermente inferiore a quelli che vi ho fatto vedere precedentemente con questo non vuol dire che vi durano un'ora cioè poi i rossetti liquidi sono molto soggettivi quindi se un prodotto sulle mie labbra dura tanto non è detto che possa durare tanto anche sulle vostre è una cosa che ho constatato vedendo varie recensioni sul web e sentendo anche i vostri pareri su vari gruppi o anche sotto i miei video tra quelli che vi ho mostrato precedentemente sulle mie labbra che sono molto secche questo è un ottimo prodotto ma dura leggermente meno mi piace tantissimo anche qui abbiamo una texture un po' più densa un po' più mussosa quindi impiega qualche secondo in più ad asciugarsi però è davvero molto bella come colorazione come durata ripeto ottima ma non ai livelli per esempio della tinta di Clio però sicuramente un bellissimo nude da avere abbiamo il No Transfer Liquid Tint della Glossip nella colorazione 07 Grape penso si pronunci così e mi piace tantissimo è molto diverso da quello che abbiamo visto precedentemente come colorazione infatti questo è un rosato malva bellissimo questa colorazione trovo invece che dia un po' di luminosità al viso come applicazione è abbastanza semplice mi piace anche la texture sulle labbra non avete quella texture super liquida e ci impiega un pochettino quasi uguale a quelli di Smashbox come asciugatura posso dire che mi piace tantissimo come durata andiamo a vedere insieme se effettivamente è No Transfer in effetti guardate non lascia assolutamente nessun tipo di segno sul dischetto perfettamente pulito come quinto prodotto abbiamo una NYX Lingerie nella colorazione 08 Bedtime Flirt e un colore come potete vedere rosato molto molto simile al colore naturale delle mie labbra infatti questo rossetto liquido che io applico quando voglio avere un effetto super naturale non molto fake quindi che non deve dare l'impressione di avere un rossetto molto pesante sulle labbra quindi quasi le labbra naturali da lontano da appunto questo effetto purtroppo sulle mie labbra le NYX Lingerie sono il prodotto che dura di meno forse perché ho le labbra molto secche e questo prodotto ha una formula molto secca sulle mie labbra tende un po' a sgretolarsi dopo un po' di tempo però so che tantissime di voi si trovano bene quindi ve lo inserite all'interno di questa top 10 perché so ripeto che tantissime di voi si trovano bene e questa colorazione secondo me è bellissima se siete appunto chiare come me se avete questa tipologia di carnagione come la mia altrimenti se siete molto scure forse è un tantino chiaretta come settimo prodotto il Vice Liquid Lipstick nella colorazione Travel mi piace questo rossetto rispetto agli altri precedentemente visti perché è l'unico che ha un finish metallico è rosato mi ingelisce leggermente i denti perché appunto ha una tonalità di rosato che dà questo effetto ma non è eccessivo lo adoro proprio perché ha questo finish metallico ma non è volgare non è eccessivo è molto luminoso e mi piace tantissimo l'unica cosa che purtroppo su di me non mi piace è che si sgretola e dura poco non mi dura tante ore però è col prodotto che vado a utilizzare quando voglio qualcosa di particolare ed è l'unico metallico che ho provato finora che ha questa tonalità che mi piace tantissimo solitamente gli altri li trovo un po' eccessivi e un po' too much invece questo devo dire che è davvero delicato e mi piace tonto e mi piace tanto secondo i miei gusti ovviamente come terzo e ultimo prodotto in ottava posizione abbiamo questo di Paula P nella colorazione Brigitte che è la 05 come vedete è un rosato abbastanza acceso sicuramente non è una tonalità che può stare bene a tutte le carnagioni ed è una tonalità semplice io la rientro nei nude perché comunque è un rosato molto forte rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente un po' baby e io devo dire che sinceramente non mi piacciono queste tonalità baby però questa punta di rosato qui trovo che sia davvero molto carina e stia bene anche col mio incarnato come asciugatura questo è quello che impiega veramente di più di tutti ad asciugarsi e a diventare matte anche questo ha un leggero 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 riflesso luminoso non che contenga all'interno pagliuzze proprio la texture che riflette leggermente la luce ma veramente poco poi non so se ancora deve asciugarsi del tutto questi ultimi tre prodotti che vi faccio vedere sono quelli che non ho ancora avuto modo di testare tantissimo sulle labbra grazie moto non vi so dire tanto in merito alla durata ma ci tenevo a farvi vedere per la colorazione poi magari cercando online cercate di capire se c'è qualcuno che li ha provati in maniera più approfondita come ho fatto io per quanto riguarda un prodotto che vi farò vedere adesso per capire se effettivamente è un prodotto valido anche per quanto riguarda la durata però come colorazione è davvero difficile trovare un rosato che non sia alla Nicki Minaj per farci capire per farmi capire però che sia anche bello da indossare veniamo ora al penultimo prodotto alla nonna posizione come vi dicevo precedentemente non perché non sia ottimo come durata ma proprio perché non l'ho provato e non ho avuto ancora modo di testarlo per tanti giorni perché mi è arrivato da pochissimo e sto parlando del Creamy Love di Clio infatti ringrazio tantissimo il team di Clio e Clio per avermi dato la possibilità di provare questa colorazione che è MLBB come sapete dal video che ho fatto sul Liquid Love è una delle colorazioni che avrei tantissimo voluto provare ed eccola qui applicata sulle mie labbra trovo che sia un colore bellissimo molto ricordare il colore naturale delle labbra la texture si fonde benissimo sulle labbra non mi evidenzia pellicini il colore è molto bello andremo a vedere più in là con la durata ma da tutte le recensioni che ho visto e soprattutto dai commenti che mi avete lasciato voi sotto il video dedicato al prodotto di Clio mi avete detto che i Creamy Love sono fantastici che vi durano tutto il giorno quindi non vedo l'ora di testarlo per bene e capire se anche sulle mie labbra è così però la colorazione ragazza è bellissima veniamo all'ultimo prodotto che è il Lip Paint Matte della L'Oreal queste sono delle nuove uscite in particolar modo questa è la colorazione 202 Nude on Flick è il nude forse più caldo fra tutti quelli che vi ho fatto vedere precedentemente perché principalmente io non amo tantissimo i nude molto caldi però devo dire che questo mi piace molto perché ha una tonalità di nude caldo perfetta mi piace tantissimo come colorazione da risalto anche al bianco dei denti se maldava bene con l'incarnato leggermente abbronzato non so se sta bene se siete molto abbronzate però se avete quella leggera abbronzatura è molto bello sulle labbra come texture molto cremosa lo scovolino è molto particolare rispetto a tutti i prodotti che abbiamo visto precedentemente perché appunto ha questa forma molto curva però molto particolare e fra tutti quelli che abbiamo visto ha un odore una profumazione fruttata solitamente difficile da trovare una profumazione fruttata in questa tipologia di prodotto perché solitamente sono tutti molto dolci invece questo è fruttato quindi mi ha colpito e mi è piaciuta molto come profumazione per quanto riguarda l'asciugatura al momento fra tutte e dieci è quello che impiega più tempo ad asciugarsi quindi se è un fattore che non vi piace ovviamente non ve lo consiglio però per quanto riguarda la durata ripeto non lo so perché è uscito da poco vi farò sicuramente sapere nell'info box o nei miei prossimi video e questi erano i miei top 10 per quanto riguarda sia i rossetti che i rossetti liquidi matte nude fatemi sapere in un commento quali sono i vostri preferiti nude sia matte che non io vi mando un grosso bacio vi lascio agli swatch sul braccio di tutti i prodotti che avete visto uno a fianco all'altro in modo tale da poter vedere le differenze di colore e le tonalità vi mando un grosso bacio e ci vediamo un nuovo video ciao 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 ciao